ciao ragazzi bentornati bentornati in un nuovo video bentornati sempre qui su marco verdoliva tutorial domenica mattina 28 maggio io mi sono svegliato da poco oggi facciamo un video tutorial sempre sul discorso che abbiamo visto anche l'altra volta c'è trasformare dei file in pdf però questa volta vediamo come si fa a trasformare una foto cioè un'immagine in pdf allora andiamo sul desktop e vi faccio vedere praticamente questa è un'immagine jpeg è un'immagine tra l'altro piccolina ok e inutile dirvi che sul web esistono vari siti che vi fanno questa cosa in maniera gratuita fanno cioè online vi fanno caricare la foto e vi fanno trasformare i file in jpeg ma mettiamoci nel caso in cui magari voi siete al lavoro non avete una connessione internet non avete tempo di fare ricerche o cose varie avete la necessità di mandare velocemente un file pdf con una foto magari con un documento e quindi non potete perdere altro tempo allora quello che facciamo non è altro che sfruttare la funzione che abbiamo visto nel video scorso cioè come andare a trasformare un file di testo in pdf utilizzando praticamente il word allora in questo caso io ho solo il reader cioè l'addo breeder che mi permette di vedere praticamente i file pdf ma non di modificarli allora come si fa semplicemente creiamo un nuovo documento microsoft word lo apriamo lo rimpiccioliamo vabbè in questo caso e ci andiamo ad incollare la nostra foto eccola qua la nostra bella foto allora ce la andiamo a ridimensionare ok in una maniera decente tanto a noi non ci frega nel senso che non è che siamo lì a badare troppo a la forma e cose varie se per caso voi avete necessità in questo caso no ma di andare a ruotare per esempio la foto viene messa in orizzontale o viene messa male andate in formato e qui ci sono le varie opzioni di rotazione dell'immagine ok e nel momento in cui avete fatto questo basta andare su file salva con nome su desktop in questo caso e andiamo a salvare in formato pdf salva allora in questo caso io non ho l'addo breeder ma ho microsoft edge ok ed ecco qua la nostra foto salvata in formato pdf allora questa piccola questo piccolo eccola qua vedete ce l'ho qui questo piccolo trucchetto va a sfruttare praticamente sempre la stessa opzione di microsoft word ovvero quello di farci salvare direttamente file in formato pdf con le foto diciamo è ottima è un'ottima cosa perché con le foto è un po più difficoltoso andare a trovare dei software andare a trovare dei siti che vi fanno fare questa trasformazione ed è molto utile per chi magari deve mandare dei documenti per posta perché potete tranquillamente all'interno del file andare a inserire quante più foto volete senza nessun tipo di problema io vi faccio un esempio eccolo qua iniziamo a mettere una foto ok poi andiamo sotto e ne mettiamo un'altra ce le ridimensioniamo come vogliamo noi ok in questo caso sto utilizzando ecco qua vi faccio vedere ecco qui andiamo mettiamo due foto mettiamo ancora un'altra foto qui sotto eccetera eccetera alla fine quando abbiamo finito salviamo tutto in formato pdf salva in questo caso già c'era si lo sostituiamo e come potete vedere abbiamo un file pdf con tutte le nostre foto bene ragazzi per questo piccolo video tutorial per questo piccolo trucchetto è tutto noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao